Al mercato del lunedì di Mogliano è stata intensificata la vigilanza da parte dei carabinieri e polizia locale per prevenire furti e borseggi. Ieri mattina ci sono stati momenti di tensione al mercato quando un gruppetto di giovani stranieri si è avvicinato ad una bancherella in piazza Donatori di Sangue nel tentativo di far sparire la borsa di una donna. Al commerciante non è sfuggito il trucchetto della ragazza, spinta dai compagni contro la signora per farle perdere l'equilibrio afferrando così la sua borsa. Al ladro, al ladro ha gridato il commerciante che ha tentato di inseguire il gruppetto dei lestofanti che però sono riusciti a dileguarsi in mezzo alla gente.